Diciamo che da un punto di vista scientifico dobbiamo essere prudenti, poi la situazione non l'abbiamo descritta come una catastrofe imminente. Abbiamo il controllo della situazione, vediamo come evolve la pandemia. Dobbiamo proseguire sulla strada delle vaccinazioni e rispettando le regole limitare il numero dei contagi. Proseguiamo sulla strada dei ristori andando a distribuire 32 miliardi per famiglie e imprese in difficoltà. Ragionare di una produzione italiana, quindi di una sovranità vaccinale per non essere dipendenti da quello che arriva dall'estero o dai contratti dell'Unione Europea. Quindi produrre in casa per aiutare gli italiani e poi riaperture, salute. Sul vaccino poi il tema è quello che conosciamo. Ce ne sono non a sufficienza rispetto alla immensa domanda mondiale. Io lo dico, non sono d'accordo a quello che è stato chiamato il mercato parallelo, perché potrebbe diventare invece il mercato nero, pieno di insidie. Abbiamo avuto problemi sulle mascherine, figuriamoci se apriamo il fronte anche di un mercato parallelo dei vaccini. Se è nato il governo Draghi è nato per affrontare due emergenze, l'emergenza vaccini e l'emergenza sanitaria e l'emergenza drammatica della crisi economica e sociale. Per questo stiamo lavorando insieme. Se ci sono le emergenze vuol dire che bisogna fare di più. Iniziamo a fare di più da un piano straordinario per i vaccini e a comunicare verso i cittadini considerandoli non sudditi ma persone responsabili.